Un'altra vittima dei campi, la terza nel giro di pochi giorni, stroncata forse dal caldo insopportabile sotto i tendoni d'uva. Si tratta di un tunisino di 52 anni, residente a Fasano. L'operaio agricolo aveva cominciato il suo turno di lavoro all'alba nelle campagne di Polignano, per terminare alle 13. All'improvviso, mentre si accingeva a prendere un caffè, si è accasciato sul pavimento accusando un malessere. E' morto subito dopo. Un'ennesima tragedia che si è consumata all'interno di un'azienda agricola specializzata nella produzione e nella commercializzazione dell'uva. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri della compagnia di Monopoli, l'uomo, per otto ore sotto il sole cocente, aveva caricato le cassette d'uva su uno dei tir che avrebbe dovuto ripartire per raggiungere località del nord. Solo uno dei braccianti ha notato che il tunisino, subito dopo aver terminato il suo turno di lavoro, si è diretto verso la macchinetta del caffè. E' stato un attimo. L'uomo è caduto per terra quando è arrivato, il 118 era già morto e per lui non c'era più nulla da fare. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia che dovrà accertare le cause della morte, dovute probabilmente ad un arresto cardiaco. E soprattutto dovrà accertare se queste siano riconducibili alle pesanti condizioni di lavoro dei braccianti, soprattutto in relazione alle alte temperature di questi giorni. L'uomo da anni viveva a Fasano con la moglie e i quattro figli. Si tratta del terzo caso in pochi giorni dopo i due decessi ad Andrea e a Nardò.